Ciao, come stai? Mi chiamo Alessandro, sono un urologo e vi spiegherò tutto sul trattamento Prostalis. E vi spiegherò tutto sul trattamento Prostalis. Quale uomo non vorrebbe aumentare la propria virilità? Aumentare la propria energia quotidiana e persino aumentare le dimensioni. Lo spessore e la potenza del proprio pene. Problemi come l'eiaculazione precoce, l'erezione debole. Le dimensioni o lo spessore inferiori alla media sono alcuni dei problemi che affliggono la vita di migliaia di uomini in tutta la Spagna e quando un uomo supera i 35-40 anni. Questi problemi iniziano a diventare sempre più comuni, ma non dovrebbero esserlo. La maggior parte degli uomini in questi casi finisce per ricorrere agli stimolanti disponibili sul mercato. Come il famoso Little Blue. Il grande problema di questi prodotti è che, oltre ad accelerare il cuore e ad essere estremamente pericolosi per la salute, hanno anche un effetto estremamente momentaneo. Il che significa che dopo qualche ora i problemi tornano alla normalità, non è vero? Poi bisogna riprenderli più volte. Un team di scienziati dell'Università del Colorado, motivato a trovare una soluzione a questi problemi che affliggono la maggior parte degli uomini, è riuscito a scoprire un nuovo integratore stimolante composto da principi attivi naturali. Negli Stati Uniti ha già superato Little Blue in termini di vendite, mentre in Spagna è appena stato rilasciato. La nuova formula innovativa scoperta da questo gruppo di scienziati, chiamata in commercio Prostalis, agisce direttamente per aumentare il flusso sanguigno nella regione pelvica, incrementando la potenza e la virilità, nonché le dimensioni e lo spessore. Attualmente, più del 67% degli uomini in Spagna soffre quotidianamente di qualche problema legato alla disfunzione rettile. Questa statistica ha messo in allarme gli esperti del settore, che si sono resi conto della necessità di un cambiamento radicale nel mercato della salute maschile. La formula di questo composto stimolante costringe l'organismo a ristabilire in modo permanente il flusso sanguigno nella regione del pene. Prostalis contiene principi attivi naturali concentrati in quantità specifiche che aumentano il flusso sanguigno, senza accelerare il cuore e senza effetti collaterali. Ma vi do un avvertimento molto importante, questo trattamento non è venduto in farmacia. Non è venduto su Amazon, non è venduto su gruppi Facebook, è venduto solo sul sito ufficiale. Per aiutarvi, vi lascio qui sotto il sito originale del prodotto per evitare che acquistiate un prodotto contraffatto su internet. Qui avete una garanzia di 365 giorni per utilizzare e provare l'efficacia del trattamento. È molto semplice effettuare un acquisto. Basta inserire il proprio nome e numero di telefono e il team di Prostalis vi contatterà per capire meglio il vostro caso e consigliarvi la quantità esatta di trattamento per voi. Questo principio attivo naturale aumenta il flusso sanguigno nella regione pelvica fino a 17 volte, potenziando la virilità dopo i 35 anni di età. Un team di scienziati dell'Università del Colorado, negli Stati Uniti, dopo sei anni di ricerche e innumerevoli esperimenti e test, è riuscito a scoprire quali principi attivi. Nella combinazione ideale. Sono in grado di aumentare in modo permanente i livelli di virilità di un uomo di oltre 17 volte oltre i 35 anni. Secondo gli scienziati, ciò che determina le dimensioni e lo spessore del pene di un uomo. Nonché la sua disposizione rettile, la virilità e l'energia maschile. È proprio il livello di flusso sanguigno nella regione pelvica. Ci sono uomini che, per predisposizione genetica, hanno un livello molto basso di flusso sanguigno nella regione. Il che significa che il membro non si sviluppa mai completamente e smette di crescere molto presto. Con il risultato di un pene piccolo o sottile. Ci sono anche uomini che, con il passare degli anni, il livello di flusso sanguigno nella regione diminuisce naturalmente. Con conseguente indisposizione al momento di andare a letto. Eiaculazione precoce e mancanza di energia e disposizione quotidiana. Prostalis è il risultato di una ricerca incentrata su questi problemi che affliggono gli uomini in Spagna e nel mondo. Le persone che hanno preso parte allo studio in Europa, Stati Uniti e Brasile hanno riferito. Aumento dell'umore e dell'energia su base giornaliera. Maggiore disponibilità durante il sesso. Aiuto in caso di eiaculazione precoce. Aumento delle dimensioni, dello spessore e della potenza. La formula di Prostalis ha già aiutato la vita di migliaia di uomini negli Stati Uniti e in Europa. E ora migliaia di spagnoli stanno letteralmente trasformando la loro vita in modo permanente. Essendo composto da principi attivi naturali, Prostalis non accelera il cuore. Non ha effetti collaterali e non ha controindicazioni. Contribuendo alla grande popolarità che Prostalis ha ottenuto in Spagna e nel mondo. Erezioni più durature. Il principio attivo del fungo è perfetto per prendersi cura dell'erezione. In modo che possiate preoccuparvi solo di soddisfare la vostra partner, con Prostalis durerete più a lungo. Negli ultimi giorni la richiesta di questo integratore è aumentata. E perché ogni flacone di Prostalis viene prodotto in uno stabilimento certificato e registrato dalla FDA. Ci vuole tempo per produrre un nuovo lotto dell'integratore. È quindi necessario agire rapidamente per acquistarlo prima che le scorte si esauriscano. Prostalis aumenterà il volume e le dimensioni del vostro pene in modo sorprendente. Si consiglia di utilizzarlo a partire da tre mesi di trattamento per ottenere i migliori risultati. Spero di avervi aiutato e che riusciate ad ingrandire il vostro pene con questo trattamento. Rimanete con Dio, abbracci! Grazie!